Amici di Telecapre, tra qualche istante apriremo le porte al più scintillante centro di bellezza del mondo, Beauty Center Show, gestito dall'allegria di Franco Franchi e Ciccio Ingressia e dalla grazia di Barbara Busce. Al termine ritroveremo Devlin & Devlin che ci proporranno l'anello del re. Quindi amici appassionati di terrore, non perdetevi l'appuntamento con Audrey Rosa, interpretato da Masha Mason e diretto da Robert Watts. Concluderemo la serata in compagnia di The Nost. Ricordate domani alle 20.30 per il ciclo dedicato ad Angelica, la meravigliosa Angelica con Michel Messier. Ed ora apriamo le porte allo spettacolo con Beauty Center Show. Buon divertimento!